Radio Kitor, siamo in diretta. Allora, tanta strada arrivare qui a Firenze per l'emozione. Beh sì, siamo arrivati con dei cavalli, con dei fiorini, con carrozze, quindi è stato un lungo viaggio. L'autostrada diciamo che ci fa in fretta, oggi il traffico merda è molto intasato, quindi anche noi, anche io, questa grandissima festa. Senti, il pubblico lo vedo già caldissimo. Sì, con lo sole cosciente. E' pronta? Sì, sono pronta. Io sto parlando con? Claudio Di Leo, Radio Krikrok. Claudio Di Leo, io ti mando un bacio e mando un bacio a tutti voi di Radio Krok. Krikrok. Grazie. Grazie a voi, vai. E in bocca all'uomo per l'autostrada. Esatto.